Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Non perdete l'occasione! Questa bellissima casa potrebbe essere la vostra Contiene cucina ben arredata Che vanta elettrodomestici di prima qualità Camere da letto di buona misura con ampio spazio Una casa in attesa del vostro tocco familiare Contattarci per ulteriori informazioni